Buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento d'incontro. Oggi ho due amici che incontro, la prima Marzia Maria Daniele, insegnante alla scuola secondaria di primo grado di Domeggia di Cadore, il secondo ospite Giovanni Battista Segurini, anche lui insegnante alla scuola secondaria di primo grado. Parleremo di un progetto molto interessante che è stato portato avanti, che ha due direzioni ma poi si unisce in un unico progetto. Allora cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando da Marzia. Che cos'è questo progetto? Allora è un progetto che è nato a seguito di una richiesta che ci è stata fatta dal sindaco di Domeggia, Lino Paolo Fedon, attraverso la nostra dirigente Morena De Bernardo, perché è stata sentita la necessità di consentire ai ragazzi di conoscere la storia di Giordano Coffin che ha dato il nome alla nostra scuola media. E dunque abbiamo deciso di approfondire questa figura, questa figura significativa per il nostro territorio anche perché purtroppo è mancato presto all'affetto della comunità con un sacrificio importante che lo ha trappato all'affetto dei suoi genitori a vent'anni. Si è fatto accadere il 5 aprile del 1991 durante una sparatoria a Padova, perse la vita Giordano Coffin assieme ad un suo collega. Questo progetto Giovanni Battista Sigurini che cosa comprende? Due strade. Due strade, una strada che riguarda una parte per la realizzazione di un video attraverso delle interviste che è stata curata dalla professoressa Daniele e una parte grafica che è stata curata da me visto che la scuola era sprovvista di un logo ufficiale e quindi abbiamo cercato di realizzarlo attraverso dei gruppi con i ragazzi, abbiamo fatto 5 gruppi e un lavoro di gruppo per realizzare un logo dal punto di vista grafico che andasse bene per il nostro istituto. E questo vostro progetto ha avuto una giornata conclusiva con la presenza dei genitori di Giordano, con la presenza del sindaco, abbiamo anche delle immagini da far vedere che si è tenuta qua. Erano presenti anche il prefetto, era presente anche il questore di Belluno, è stata tenuta il 26 di maggio e in questa occasione sono stati premiati anche dei ragazzi e tutti ex alunni della scuola secondaria con una borsa di studio intitolata appunto a Giordano, che il comune ci tiene molto a ricordare attraverso anche quelli che sono i meriti della comunità, della giovane comunità del paese. Naturalmente qui si vedono anche tutte le attività che si fanno durante l'anno scolastico, quindi dal disegno abbiamo Segurini che è insegnante, vero? Esatto, sì, di educazione artistica e musicale hanno eseguito il lino di tagli ai ragazzi della scuola primaria che fa sempre parte del nostro istituto e attraverso il disegno ovviamente io ho dovuto ispirare i ragazzi nel utilizzare il simbolo di Domegie che è San Giorgio, qualche cosa che ricordi la scuola e non ho potuto dargli l'incarico di ricordare Giordano Coffin, ma qualcosa che ricordi più il nostro territorio. Parleremo anche di questi disegni, poi abbiamo anche la possibilità di vederli, ma torniamo sul progetto iniziale, il progetto di partenza che è la realizzazione di un video, ma perché? La realizzazione di un video perché siamo in questo momento in cui la scuola è in fase di cambiamento. Ridurci e limitarci soltanto ad un aspetto conoscitivo non mi sembrava abbastanza e quindi abbiamo pensato, ho pensato che per i ragazzi della nostra seconda fosse importante entrare sulla questione partendo da delle testimonianze, le testimonianze fatalità di amici, ma anche dei loro stessi genitori, perché ricordo che quest'anno Giordano avrebbe festeggiato i 50 anni, quindi molti dei loro genitori sono stati compagni, sono stati coscritti e quindi hanno vissuto in prima persona questa tragedia. I ragazzi così hanno lavorato sulle interviste, come si conduce un'intervista, si sono confrontati con le persone che ci hanno fornito una testimonianza, si sono emozionati perché non è stato facile e hanno capito, hanno capito veramente quanto positiva fosse l'immagine di Giordano. Poi qui è anche simpatico il modo che hanno trovato per realizzare questo video, perché pare che c'è una ricerca di foto, ma è stato fatto con un telefonino sostanzialmente. Ah sì sì sì, diciamo che la scuola purtroppo non dispone di materiali sofisticati e dunque con i loro telefonini, di fatti diciamo si vedono inquadrature orizzontali, inquadrature verticali, inquadrature un po' mosse, però secondo me è proprio la freschezza, questa è la freschezza del loro prodotto e del loro approccio con le nuove tecnologie. E la sorpresa per loro qual è stata? Di sapere che una memoria si può coltivare così a lungo tempo, la storia personale di Giordano, qual è stata la sorpresa per loro principalmente? Per loro è stato importante capire che non è un fatto dimenticato. Loro hanno potuto leggere, nell'espressione dei genitori intervistati, degli amici di Giordano, una viva commozione. Diciamo che poi hanno potuto vedere Giordano con una nuova luce, perché qual è il punto? Il punto è che di Giordano si ricorda sempre la tragedia, si ricorda sempre la sparatoria, l'evento doloroso. Ma non la vita privata. Ma non la vita privata. È bella come idea. E hanno visto Giordano come uno di loro e quindi per questo, diciamo, la mia speranza è che gli rimanga impresso proprio per questo. Sì, noi naturalmente manderemo in onda questo filmato in altra parte della programmazione, questa trasmissione la facciamo anche per rendere ammaggio al lavoro che fanno gli insegnanti, che è un lavoro particolarmente complicato. Quanto sono stati influenzati, Segurini, gli alunni dal lavoro fatto precedentemente nella realizzazione, se lo sono stati naturalmente, dei loghi della scuola? Io ho voluto far capire ai ragazzi la difficoltà che c'è nel creare un'immagine sia dal punto di vista digitale che dal punto di vista grafico. E allora loro sono passati dalla tecnologia, dei telefonini, eccetera, eccetera, alla produzione di un'immagine partendo, come si faceva una volta, credo che si faccia tuttora, da un bozzetto su un foglio di carta fino a sviluppare un disegno esecutivo. Ma è entrata la vicenda di Giordano nei disegni che adesso possiamo anche... Non è entrata, non è entrata, secondo me, ma io non volevo che entrasse, cioè non volevo che entrasse la tragedia che è successa a Giordano Coffin nel logo della scuola, se non attraverso una massima che abbiamo studiato. Quello che voi fate è una proposta, adesso vediamo con un po' di dettaglio, sono proposte che fate e poi deciderà... Deciderà anche di competenza. Questi sono i due castelli, il pino e l'immagine del cadore. Del cadore, del cadore, c'è sempre qualche cosa che ricorda la scuola, qualche d'uno mi ha messo la civetta che è il simbolo della sapienza. Vediamo al prossimo, vediamo... Eccolo qui, con le montagne che dovrebbero ricrollare gli spalti di Toro, ma sono ovviamente stilizzate, c'è un libro, c'è sempre qualche cosa che ricordi la scuola e che ricordi il territorio nostro, la montagna. Vediamo il successivo. La montagna, qui c'è un libro, vediamo che c'è San Giorgio, col drago, ok, e i colori delle contrade, siccome c'era in corso anche un torneo calcistico nella zona, hanno voluto mettere i ragazzi maschi colori delle loro contrade, io non sono stato di certo a negarglielo. Andiamo alla prossima immagine. Questo qua è un libro aperto con, teoricamente si vede poco qui nell'immagine, una parte illuminata dal sole e una parte invece è nella notte e si vede che la scuola va avanti oltre agli orari scolastici, ma dura anche tutta la vita, possiamo dire. Sì, poi ci possono essere delle letture ancora più importanti, c'è sempre un lato oscuro nei geni dei ragazzi, certo. Questo che è l'ultimo? Questo è l'ultimo, sì, qua invece c'è uno zaino, vediamo in basso, che ricorda la scuola, c'è San Giorgio e c'è il simbolo del cadore, ok, e il nome della scuola, Giordano Coffin ovviamente, tutto intorno. È rimasto soddisfatto del lavoro fatto dei ragazzi? Sono rimasto soddisfatto perché nonostante siano molto legate alle tecnologie più semplici in apparenza, che sono quelle digitali. La parte manuale è ancora predominante sia nella loro vita di studenti che anche nella loro vita fuori dalla scuola. Cioè tante volte vedo che a casa realizzano cose che non gli ho chiesto io, ma perché cominciano a prendere il piacere di usare ancora le mani, non solo il telefonino o il computer. Quante persone hanno collaborato al progetto della realizzazione del video? Beh, diciamo che abbiamo tutti i ragazzi che hanno svolto una parte, sempre divisi per gruppi, hanno svolto le interviste. Queste interviste sono state sostenute, diciamo, dai genitori e poi ci sono le persone, diciamo, che anche nel video si vedono in modo un pochino più frequente come Angela Polato, che mi ha aiutato tantissimo proprio nella coordinazione e nella chiusura del progetto. È lei che appunto ha messo insieme i suoi migliori amici, i compagni, mi ha creato i contatti con Virgilio e con Erminia. Poi abbiamo avuto Enzo Tabacchi, Enzo Tabacchi, compagno di scuola superiore e abbiamo avuto Gian Mario Meneghin, un suo carissimo amico, con cui insomma hanno portato avanti anche parecchie esperienze divertenti. Dunque, poi ovviamente c'è il collega Gianni Segurini, abbiamo avuto un supporto anche da parte degli insegnanti di musica che ci ha aiutato per la scelta della colonna sonora. Una cosa tecnica, magari banale, ma il montaggio? Il montaggio, diciamo, è stato coordinato da me. I ragazzi hanno filmato tutto, i ragazzi hanno lavorato sullo storyboard e poi... Permette, lo storyboard è la storia che bisogna raccontare, generalmente va fatto prima, va fatto in carta e su quella poi seguono le immagini che devono essere fatte. È praticamente un preambolo al filmato, sono termini che magari qualcuno ha piacere di spiegare. Prego. E quindi poi insieme, con alcuni in particolare, quelli un pochino più incuriositi, diciamo, dal sistema di montaggio, abbiamo provveduto a mettere insieme questo video. E dunque, insomma... Siete, ma ti sono soddisfatti? Io l'ho visto, è molto carino, è molto invitante. Cominci a seguirlo magari distrettamente, poi man mano che passano i minuti, vorresti anziché continuarsi, quindi hanno fatto un gran bel lavoro i ragazzi. Sì, 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 hanno fatto un bel lavoro. Abbiamo cercato appunto di trovare una massima, un'idea che potesse essere poi l'insegnamento, cioè perché le persone dovrebbero essere invogliate a guardare questo video. Per riflettere sicuramente sull'accaduto e sulla vicenda, per conoscere Giordano, come era, quanto è stato amato dalle persone, per la sua generosità, per la sua disponibilità, per la sua bontà e perché... Quale insegnamento possiamo trarre dall'esperienza di Giordano? Tutti, tutti i ragazzi di Domeggie, ma anche le persone che non hanno niente a che vedere con Domeggie, possono utilizzare questo video per riflettere un attimo su quella che è la fugacità della vita e su quanto importante sia concentrarsi sul presente, non su quello che verrà, per capitalizzare i propri talenti e la vita stessa. Senta Sigurini, quanto avete lavorato per realizzare questi marchi? Come è partita? Avete cominciato a ottobre, avete cominciato... Abbiamo cominciato abbastanza presto, abbiamo cominciato nel suddividere i gruppi, tentando di mettere, diciamo, estrarre le varie competenze da ognuno e fare dei gruppi omogenei, con dei bozzetti, con delle immagini che ricordassero Domeggie e poi sviluppando queste idee su piccoli pezzi di carta, ognuno la sua, hanno fatto un lavoro di gruppo cercando di trovare le immagini più belle e dopo di realizzarla in un formato più grande da presentare il giorno della cerimonia, le abbiamo attaccati nella sala dove avevano fatto la consegna delle borse di studio. È un lavoro abbastanza complesso perché bisogna fare un lavoro di sintesi, cioè le immagini che bisogna mettere in un logo per un ragazzino di 11 anni, 12 anni non sono così semplici da trovare perché devono essere esplicative ma semplici da fare e quindi è stato un lavoro lungo ma soddisfacente sia per me che per loro. Abbiamo detto che questi disegni potrebbero, uno di questi potrebbe diventare il logo e quindi sappiamo qual è la destinazione del lavoro, ma la destinazione del lavoro invece del video lo circuitirete, noi lo metteremo in onda anche perché ricordiamo volentieri la figura di Giordano Coffin, ma avete qualche altra idea riguardo a questo? Beh sicuramente il video è nato anche con un'idea molto semplice, fornire un dono ad Erminia e Virgilio. Che sono i genitori? Che sono i genitori di Giordano e dunque diciamo il nostro scopo era anche riuscire a creare un ritratto calzante di Giordano che sebbene partendo dal fatto che nessuno di noi, io compresa, lo aveva conosciuto. Sì soprattutto perché il tempo ha questa caratteristica di far dimenticare, è un po' la paura che si ha perché vabbè si può dimenticare una persona poi si dimenticano tante altre cose, chi non ricorda il passato è destinato a ripetere gli errori, si dice in modo filosofico, era anche questo l'intento, che la memoria rimanga. Esatto, esattamente e mi viene in mente il passaggio foscoliano, chi non lascia eredità d'affetti poca gioia nell'urna, ecco in questo caso io mi sono resa conto che Giordano ha lasciato una importante profonda eredità d'affetti, quindi è come se fossimo riusciti a rigenerare il suo ricordo. È una curiosità che mi rivolgo a Segurini, questa è la società dell'immagine, però è un'immagine non costruita, quindi è difficile, è la foto che si può fare velocemente, è il filmato che si può fare velocemente. Ha qualche curiosità riguardo alla sorpresa che possono avere avuto i ragazzi di vedersi, veder formare davanti a loro qualcosa che generalmente hanno solamente filmato, solo fotografato, c'è stato questo tipo di impatto o posso creare? Insomma più che quello posso creare con le mani, ha generato più stupore secondo me, non so se mi spiego, loro sono talmente abituati a riuscire a creare qualcosa facilmente con le tecnologie moderne che invece creare qualcosa con pazienza e con meticolosità ha creato il loro stupore, cioè vedere il lavoro finale su un pezzo di carta crea quasi più stupore che vedere un'immagine fotografica, perché ne fanno talmente tante durante il giorno che non li crea più stupore, non riescono più a vedere la bellezza. È quello che io sto tentando di insegnare, di far capire ai miei ragazzi durante le ore della mia materia, che la costruzione di un'immagine su carta delle volte porta un ricordo e porta una soddisfazione maggiore che quella utilizzando le tecnologie digitali o le tecnologie moderne. Anche perché vanno superati i svariati step, a parte l'armonizzazione delle figure, poi anche la scelta dei colori. La scelta dei colori che è soggettiva e però è dettata dal fatto che da essere, io gli ho spiegato ragazzi, se è destinato a diventare un logo deve andare bene e deve essere leggibile sia sulla carta intestata della scuola che su un'eventuale targa da mettere fuori, quindi ha una doppia valenza l'immagine. Sono cose difficili da insegnare a ragazzini che producono immagini continuamente e vedono immagini continuamente. C'era il senso della domanda. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, è stato che vi siete messi in un bel guaio perché avete alzato all'asticella notevolmente per quanto riguarda i progetti futuri, perché più di così che cosa si può fare? Sicuramente il punto di partenza è cercare di fare bene sempre, indipendentemente da quello che è il confronto con l'esperienza precedente. Cercare di trovare, io credo, il gusto del fare le cose, cercare di metterci un aspetto emotivo che possa poi consentire ai ragazzi di portarselo a presso, in quella che sarà la loro vita. Allora, io vi ringrazio naturalmente per la partecipazione, vi faccio i complimenti a entrambi e anche tutti i vostri colleghi che sicuramente vi hanno seguito e supportato e che vi sono stati a fianco. Siamo stati con Marzia Maria Daniele, insegnante della scuola secondaria di primo grado di Domeggio di Cadore, il suo collega Giovanni Battista Segurini. Vi abbiamo presentato questi due progetti, il logo della scuola e poi il filmato di Giordano Coffin, i ricordi degli amici che lo hanno conosciuto a distanza di più di 15 anni da quello che accadde in una drammatica giornata a Padova. Complimenti per il vostro lavoro, grazie naturalmente per la disponibilità. Grazie a voi per averci seguito e buona giornata.